ciao a tutti nuovo video volantino mania perché perché mi sono arrivati qualche offerta di alcuni miei costetti e ho trovato il nuovo catalogo iperso questa volta vi faccio vedere partiamo da questo è un po più spiccio in ordine di scadenza questa scade oggi quindi io non credo di usufruirne della Yves Rocher comunque due regali per qualsiasi acquisto per la tua bellezza il pennello cipre fard 100% sintetico e il gel sfollante luminosità poi meno 30 per cento sul prodotto a scelta e meno 40 per cento su un prodotto a viso a scelta scade il 30 settembre poi c'è l'offerta stick corretto alla pelle perfetta 5,95 la novità capelli routine anti inquinamento c'è prepara detergi e proteggi quindi c'è una base prima un gommaggio per i capelli molto interessante uno shampoo sempre anti inquinamento e sarà un balsamo una maschera come ho già scritto questi prodotti qui c'è il gommaggio lo shampoo e il trattamento dopo questo è il correttore in offerta non credo di usufruirne visto che oggi non credo di colaggio è anche chiuso qui poi da bottega verde con acquisto solo 10 euro c'è il set borsetta termica borraccia e lunchbox c'è questo qui borraccia borsetta e lunchbox molto carina tutta fucsia e bianca magari per chi lavora fuori casa non sarà male molto carina poi io vorrei scelta sempre degli ottimi accessori poi la novità è la linea per il viso a goji perfetta che è questa qui tutti i trattamenti molto molto carino poi un burrocorpo scelta a soli 7,99 poi abbiamo tutte queste offerte la mia amica ha fatto una spesa praticamente per tutta la famiglia io ero molto intesa a un prodotto che mi ricordo la mia adolescenza che è la maschera pilota all'acido glicolico che lo prenderò e anche il siero che voglio prendere praticamente ci sono in offerta il natural lift crema con tornocchi da 26,90 a 4,95 quindi 4,99 un'ottima offerta crema gel idratante mela verde e kiwi da 19,99 a 4,99 aloe gel con tornocchi da 16,99 a 4,99 quindi tutti ripassati a 4,99 anche lo stick antietà con tornocchi e labbra da 18,99 sempre a 4,99 nella linea rosa moschita però agane marocco crema viso antietà costava 24,99 poi lo scrub maschera 2 in 1 pesca da picocca sembra 13,99 costa 4,99 quelli che io sono intenzionata ad acquistare sono questi qui credo proprio di acquistarli 10 euro poi che sono della linea all'acido glicolico molto buona natural lift tonico viso da 16,99 a 4,99 acido glicolico crema viso giorno da 32,99 a 4,99 scontatissima pelle pura gel correttivo SS pelle impurità l'avevo già provato questo 39,99 a 4,99 mascara volume extra black da 14,99 a 4,99 manicure tratamento crescita unghie da 11,49 a 4,99 base trucco per le scelte illuminante da 17,99 a 4,99 questi sono molto carini non l'ho visto in negozio ma i color rombetti in polvere libera da 15,99 a 4,99 questi sono questi qui questi qui questi qua però non li ho visto in negozio matita occhia automatica waterproof da 12,99 a 4,99 leva smanto delicato da 9,99 a 4,99 gel per bolle sul chiaio da 17,99 a 4,99 iris crema corte da 15,99 a 4,99 gel corpo alla menta da 16,99 a 4,99 cocco detergente scrub corpo da 13,99 a 4,99 pepe rosa crema a mani pepe rosa crema a mani questa è una varia latte nemici per metà è molto buona petta di vaniglia crema a mani sempre a 4,99 impacco all'utente per i piedi da 16,99 a 4,99 l'uomo in balsamo dopo barba da 4,99 a 4,99 e questo scade a se lo ricevete a casa ovviamente il 14 ottobre se può interessare ok mettiamola a posto poi sempre bottega verde si avvia per te uno sconto speciale è regalo a scelta in basso tutta la spesa almeno 60% di sconto o regalo a scelta ogni 10 euro di spesa il block notice la penna e l'agenda ah non potete scegliere sono molto carina perché sia carta pazzosa però sono a scelta ogni 10 euro di spesa e avete lo sconto del 60% e questo scade il 21 ottobre poi da Yves Rocher Spero mi vediate penso al sì avete un regalo per qualsiasi acquisto lo specchio da borsetta che è questo qui poi poi 30% di sconto sul prodotto a scelta 40% sul secondo prodotto a scelta offerta shampoo due shampoo che sono buonissimi buonissimi shampoo di Yves Rocher 2x55 sono molto buoni i shampoo e poi dei nostri campi bio alla tua pelle crema mind idratante a lunga durata all'arnica adesso è molto molto buona e basta questo era il volantino di offerte poi abbiamo il volantino dell'ipershop offerte vanno dal primo al 13 ottobre qui abbiamo offerte dentifrici shampoo carta per la casa detersivi poi bagno schiumi doloranti intimo credo intimo bagno schiuma no sapone liquide spugne i dischi di cotone gli doloranti tutto è inserita un 89 no 099 079 spugne i dischi da grossi poi qui tutto al reparto dentifrici da colgate cotonese questo cos'è doccia scuma ultra dolce sempre per i spazzolini 100 buone spese da 20 euro con l'acquisto della linea tempo poi vado avanti beauty routine oggi bello io bye bye capelli spenti e crespi acquista 10 euro di prodotti uno scopri se hai vinto uno di 100 buone ispirata valore di 20 euro poi in offerta mentadent io volevo prendere quello al cocco che l'avevo fatto vedere qui un youtuber vendi bichan che saluto non l'avevo ancora trovato lo voglio provare non so tanti tanti dentifrici poi c'è i vanicini d'aglio in offerta molto buono poi qui è tutto per quanto riguarda assorbenti pannolini faccio un po' di fermi immagini magari li vedete ok poi i rasori i dentifrici e i semplici i dentifrici i sondilletti tutte le marche e l'experimenti non la marca poi qui abbiamo royal beauty l'oreal acqua l'eroe io volevo accaparrò in questa crema idratante della roberts questo volevo prendere questo royal beauty molto buono la sfugnita insieme poi in offerta crema venus acquamicellai dettagli denti e qui per quanto riguarda equilibrio io ho già provato questa è la crema a mano molto buona poi profumi per linea dermolab perfumino perfetta per più come le amate di profumi e linea dermolab per il viso facendo anche i skin per me poi la mia pagina preferita Astra, Delora e L'Oreal, poi qui abbiamo Biopoint, Podovist, Testa Nera e EcoBios è una linea di shampoo, balsamo e maschera, che costa molto poco, COBIO aspettiamo cosa dice, dermo shampoo biologico, balsamo biologico, maschera capelli biologica, idratante, idratante, lo shampoo è idratante e rinforzante, balsamo idratante e riparatore, la maschera è di struttura, quindi siamo tutti molto molto validi, fatemi sapere se volete pronti, ho clicco Bios, per poi un'offerta, Billpoint un'offerta, Podovist un'offerta, poi, punti extra e, per quanto si va voglia morire. prodotti per gli animaletti prodotti per la casa sempre prodotti per la casa in offerta sempre prodotti per la casa fidanzato molto felice acquistando uno Spontex for Action System se mi non ho un amaggio è una bellissima tazza se vi può interessare acquista 10 euro di prodotti si può vincere il buono Spirato da 20 euro acquistato di acquistato usiamo questo molto buono poi altre cose per gli spazzolini attorsivi swiffer lampadine addirittura acquistando 15 euro dai Microsoft riportanti il regalo o la selo generis questo qua è il regalo cola che non costa poco se vi può interessare dovete prendere qualcosa della Banten Oral B venus with o Lenore prendete anche questa bella crema una crema un'ora sulla 15 euro quindi che è mancetta per il giorno ok prodotti ecco i miei preferiti i miei preferiti, questi qua, della Chanticleer Verde, io ho comprato questo ultimamente, ho preso anche la Morpidine, ho preso anche questo, molto buono, ve li consiglio anche se non l'avete parlato dentro, sono molto buoni l'ultima pagina, sempre, cos'è questo? Ah, Mr. Magic, non l'ho mai sentito spedi 10 ai colti anche, riprendi 10 euro, lo ascolto questo qui, e questo, c'è anche lo shop online, www.ipershoponline.com, dovevi sbagliare ultimissimi ci sono i prodotti della macchina, ci sono mesi per ultimi e qui le ultime offerte e niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale mando un buon bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao 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 ciao